Partenza con il freno a mano per i saldi estivi, l'emergenza sanitaria abbinata a quella economica e soprattutto alle incertezze sul futuro hanno infatti condizionato pesantemente le vendite, questo quanto emerge dall'indagine condotta da confesercenti tra 60 attività commerciali a retine di cui la metà in città e il resto distribuite nelle quattro vallate che operano nel settore dell'abbigliamento uomo-donna-bambino oltre alle calzature, accessori ed articoli per la casa. Gli operatori hanno analizzato l'andamento della prima settimana di saldi. Per il 61% degli intervistati il cliente è molto prudente e spende molto meno rispetto all'anno scorso, per il 22% in linea di massima l'andamento è lo stesso, mentre per l'11,1% c'è stato addirittura un rinnovato entusiasmo negli acquisti. C'è poi un 5,6% che ha indicato meno presenze ma ha notato un cambiamento nell'approccio all'acquisto con il cliente che entra veloce ed acquista deciso rimanendo meno in negozio. La fotografia che abbiamo scattato, commenta il direttore di Confesercenti Arezzo, Mario Checaghini, rispecchia un andamento timoroso e in frenata. Nessuno ha visto aumentare le vendite e tra le vetrine a cambiare anche l'approccio con i saldi con i consumatori preoccupati delle prospettive economiche e della tutela della salute. Significativo poi anche il valore dello scontrino medio. L'indagine ha evidenziato che il 38,3% è inferiore ai 50 euro e solamente il 5,4% ha speso più di 200 euro. L'andamento dei saldi, conclude il direttore di Confesercenti, dimostra la necessità di dover aiutare le imprese dell'abbigliamento, un settore tra i più colpiti. Sarà quindi necessario sostenere le famiglie attraverso il reddito in modo che possano tornare a fare acquisti. Questo sarà importante e soprattutto in previsione della progettualità dell'utilizzo delle risorse previste dal Recovery Fund.